Tra le ultime delibere del Comune di Agropoli è presente la programmazione e l'espletamento di un laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatro destinati ai giovani dai 16 ai 35 anni. A proporlo è l'assessore alle politiche sociali e giovanili Maria Giovanna D'Arienzo. La delibera di giunta dello scorso 13 luglio nel rispetto della citata legge regionale ha istituito la cittadella dei giovani del Comune di Agropoli dai 18 ai 35 anni e la delibera del 22 luglio ha dato l'avvio alla pubblicazione di un avviso volto all'individuazione di soggetti qualificati per la programmazione e l'espletamento di corsi destinati ai giovani nel campo delle arti in particolare in materie di arti visive, scrittura creativa, musica e laboratori teatrali. Il corso fanno sapere dall'ente all'obiettivo di promuovere l'interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitando il superamento di problematiche sociali e ambientali, nonché l'esplorazione della creatività dei partecipanti e la creazione dei primi spunti narrativi. Vengono forniti esercizi capaci di stimolare l'immaginario e facilitare la stesura di un testo. Ognuno è libero di partire da una lettera, un racconto, un dialogo, una pagina di diario o da qualsiasi altro spunto. Durante le lezioni gli elaborati vengono analizzati e vengono fornite indicazioni puntuali per amplificare il mondo narrativo di riferimento e comprendere le tecniche di scrittura che consentono di far crescere uno spunto e trasformarlo gradualmente in una narrazione per teatro, cinema, letteratura. Il gruppo che si forma costituisce un vero e proprio laboratorio di scrittura all'interno del quale ogni partecipante presenta i propri scritti, ottenendo da questo stimoli continui per il proprio percorso di crescita. Il laboratorio teatrale comprende anche lezioni di dizione. Alla fine del corso si organizzerà l'evento di rappresentazione teatrale dei testi elaborati coinvolgendo solo i partecipanti che desidereranno farlo. Il comune sta procedendo all'individuazione di altri giovani. Oltre quelli che hanno già prodotto domanda, sia i giovani interessati a seguire il corso gratuito, sia i soggetti qualificati alla programmazione e all'espletamento dei suddetti possono produrre domande all'indirizzo cittadella dei giovani chiocciolacomune.agropoli.sa.it entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. I corsi saranno pomeridiani da calendario oggetto di programmazione successiva al numero di domande pervenute.